Si è parlato degli allenamenti, della metodologia particolare degli allenamenti, ma anche di un certo clima che ha portato il coach, insomma inizialmente ironizzavamo molto su I love this team, I love this player, amo tutti un clima molto amichevole. Questo non può essere stato anche un ulteriore ostacolo, nel senso quando sono subentrati i problemi con le tre sconfitte consecutive, alla fine erano in un clima un po' di confidenza, un clima un po' disteso e poi improvvisamente hai dovuto prendere consapevolezza che bisognava cambiare registro. C'è questa voce che gira, non so se c'è qualche talpa, che noi ci alleniamo poco ed è secondo me una mancanza di rispetto enorme nei confronti di chi va ogni giorno e sta lì sei ore, perché appunto non so chi abbia messo in giro queste voci, ma noi è vero che le modalità rispetto all'anno scorso sono diverse rispetto ai doppi allenamenti, facciamo un allenamento unico, lungo, ma noi ci alleniamo. E quindi tante volte quando sento la gente che dice, ah vi allenate, non fate niente, riposatevi, credo che dopo camminiamo, quella è una cosa che dà fastidio, perché è anche vero che gli allenamenti sono a porte chiuse e quindi la gente non può avere un confronto. Se già da qualche anno che dura. Sì, però questa è una cosa che ci tenevo, l'ho provato anche con un tuo collega, perché è vero passare per quelli che stanno giocando male, ma non voglio che i miei ragazzi, i miei compagni passino per quelli che non hanno dovuto fare o non fare. Per quello che riguarda invece il discorso dell'atmosfera e del clima che l'allenatore ci ha imposto, o comunque ha cercato di portare dalla sua esperienza america, sono punti di vista diversi. E' vero che quando, hai detto ben tu, abbiamo perso tre partite in fila, c'è stato un po' di frizione, c'è stato un po' di più consapevolezza e quindi abbiamo cambiato marcia. Da questo punto di vista anche si vede la mentalità, la metodologia americana, che da un certo punto di vista è incomiabile, perché noi siamo abituati come cultura sportiva italiana a perdere due partite e cambi tutto. Tutti chiedono l'alleatore ad agonio, tutti chiedono cambiamo questo o quell'altro. Da questo punto di vista la società nostra sta andando sui suoi binari, non sappiamo chi ha ragione e chi non ha ragione, quello che sicuramente bisogna fare è tirar le linee alla fine del campionato.